Signore e signori buonasera da Matelica, Matelica Maceratese, Tilanzi, Moras, Mangiola, Iacchetta, Api e Ferretti, è iniziato in questo momento il match. La conclusione è sballata di Moretti, l'impallo va via Moretti, calcia, Mandorino è un bel giocatore, la propria difensore del Matelica ancora in mezzo, è del rigore, è del rigore, Spitoni è saltato addosso a Ferrimarini. Mi sembra, proprio gli è saltato addosso, ha sbagliato il tempo di uscita. Romano e Spitoni, palo, è una disdetta. La Maceratese mi auguro che riesca a vincere, però sui calci di rigore ci abbiamo lasciato tanto. Ambrosini, destro, deviazione, la palla è rimbalzata. Bartolini chiede la palla, poi sbaglia Bartolini, difficoltà a trovare nella precisione. Rete, Rete ha segnato la Maceratese con Cocco, prima aveva parato la prima girata, Bartolini, mi sembrava Cocco, Bartolini prima gli aveva respinto la palla in girata, Spitoni poi l'ha ripreso e l'ha messa dentro. Ma con questo vento è sempre difficile. Di pugno Ghiacchetta è appareggiato, di pugno Saitta ha ripreso, corto e ha pareggiato il matrimonio. Sua prestazione che viene fermato Rosso per Graffoni, espulso Graffoni. Ghiacchetta, Ghiacchetta come al solito, scatenato, Ghiacchetta, attenzione in aria, Ghiacchetta, Ghiacchetta, Ghiacchetta sbaglia, è pericolosissimo. Va sul fondo, Cordova, poi traversa il centro, vediamo Cocco, poi attenzione, Rete, Rete, ha segnato la Maceratese con bel colpo al volo. No, non è romano, ha segnato con Villanova, mi sembra. Non vediamo il numero, da questa distanza non si riesce. Villanova, Villanova ha centrato al volo e ha superato Spitoni. Lui se ne va da vedere l'Ancona e sei licenziato. Subito, te lo dico su, non metti a farvi più vedere. Già, è finito, è finito, ha vinto la Maceratese. Ha vinto la Maceratese, nonostante quel menagrammo di Ghiacchetta, ha vinto la Maceratese. Ha vinto la Maceratese, avvocato, gli mandi la liquidazione, non le voglio più sapere.